In questo terzo video dell'esercizio guardiamo la soluzione di questo esercizio e in particolare come abbiamo implementato l'inserimento di un nuovo esame e la selezione da una serie di corsi. Nonché cosa capita se cerchiamo di inserire un esame partendo da un corso, di inserire un nuovo esame quando questo stesso esame è già presente. Quindi per esempio se cerchiamo di inserire basi di dati e sistemi informativi quando abbiamo già sostenuto l'esame di basi di dati e sistemi informativi. Allora questo è essenzialmente l'evoluzione del programma che abbiamo realizzato insieme nel laboratorio precedente, nel video precedente, con... Quindi vedete per esempio il Get Passed Exam e tutto il costruttore funziona allo stesso modo e anche il Get Passed Exam è strutturato allo stesso identico modo se non per magari qualche commento di diversità. E... Cosa cambia? Cambia ovviamente la parte di inizializzazione e di gestione del form. Allora se voi ricordate all'inizio noi prendevamo l'elenco dei corsi dal metodo GetCourses e questo continuiamo a farlo, ovviamente dobbiamo farlo con una Wait e con una Sync perché questo GetCourses utilizzerà una Fetch e in particolare, se andiamo a vederlo, vedete che è molto molto simile praticamente è la versione più semplice di quello che abbiamo fatto per prendere gli esami. Per prendere gli esami facciamo una Fetch su esami e poi una Fetch sui codici dei corsi per avere le informazioni mancanti. Qui ci servono tutti i corsi, quindi semplicemente una Fetch su corsi conversione in JSON dell'oggetto della risposta se la risposta è ok, ritorniamo direttamente l'oggetto JavaScript rappresentato dal JSON altrimenti lanciamo quello come errore. Perché, come dicevo prima, dato che noi non vogliamo manipolare i corsi ma vogliamo solo mostrarli all'interno di questo form allora non ci serve in questo caso una struttura come abbiamo per gli esami perché gli esami invece li manipoliamo, abbiamo le date, eccetera qui vogliamo solo prendere alcune informazioni specifiche oppure metterle in un form quindi un oggetto JavaScript è più che sufficiente. Quindi questo ritorna con l'elenco dei corsi che come prima viene aggiunto alle opzioni di questo form quindi prima avevamo solo due opzioni quindi abbiamo molte di più. Quali sono tutte queste opzioni? Sono tutti i corsi che sono disponibili nel nostro database sul server quindi se selezioniamo base di dati abbiamo 9 crediti se selezioniamo sistemi operativi ne abbiamo 12 se selezioniamo metodologie ne abbiamo 6 il cambiamento dei crediti avviene come prima come abbiamo visto l'altro cambiamento che c'è è l'altro cambiamento che c'è è invece relativo a cosa capita quando sottomettiamo il form allora come prima quando sottomettiamo il form prendiamo impostiamo il prevent default adesso c'è anche un ho aggiunto un div vuoto che si chiama error message che si inserisce qui sotto i miei esami che è una barra rossa per indicare eventuali errori nel caso in cui questo inserimento abbia dei problemi noi sappiamo per esempio che possiamo aggiungere solo al di là dei controlli che possiamo fare via via javascript non possiamo aggiungere non potremmo in teoria aggiungere nuovamente l'esame di base di dati e sistemi informativi perché c'è già quindi in quel caso potrebbe darci errore in quel caso potremmo doverlo vedere l'errore capire che non avremmo dovuto ovviamente la cosa più furba sarebbe avere qui solo i corsi per cui non abbiamo ancora sostenuto un esame ma non abbiamo un API REST per farlo e potremmo farlo in javascript e nel client ma diventa abbastanza complicato diventa non particolarmente complicato ma diventa un pochino lungo dover gestire l'inserimento e la rimozione tutte le volte di la rimozione corretta tutte le volte di questo elenco perché nel momento in cui inseriamo l'esame dei sistemi operativi deve sparire da questo elenco sistemi imperativi e a un certo punto quindi questo elenco sarà vuoto e quindi bisogna gestire in quel caso in cui questo elenco sia vuoto e quindi forma non debba aprirsi ci sono tante cose da gestire non è impossibile ma non è banale non è veloce da mostrare per un esempio e in più se noi avessimo avuto solo i corsi per cui dovevamo sostenere un esame e non quelli per cui abbiamo già sostenuto un esame non potevo farvi vedere questo caso di errore che invece vi permette di questo errore qui che vi permette appunto di apprezzare anche una risposta di errore che arriva da server di visualizzarle in una maniera un po' diversa da solito e visualizzarla anzi sul nostro client ma andiamo una cosa per volta quindi dicevo come solito blocchiamo il default della sottomissione del form prendiamo svuotiamo questo errore nel caso fosse stato riempito precedentemente prendiamo il form come prima controlliamo la verità del form creiamo il nostro nuovo esame creiamo il nostro nuovo esame sempre partendo da i campi del nostro form quindi prendiamo selected course value quindi questo crediti 6 il nome del corso non ci interessa perché non ci interessa exam ricordate ha codice, nome, crediti, data, voto quindi codice ci interessa nome non ci interessa crediti non ci interessa data ci interessa e valore ci interessa per inserire un nuovo esame perché nome e crediti non ci interessa ma per il semplice fatto che la nostra API REST se noi andiamo a vederla per quanto riguarda la post sugli esami vuole un body con codice, score e data non con nome, non con crediti perché le informazioni sul nome e sui crediti sono relativi al corso e non all'esame quindi noi dobbiamo creare un oggetto in quel caso vogliamo creare un oggetto esame senza con quelle due proprietà messe a undefined e la fetch quando manda o meglio quando parsifica dall'oggetto javascript all'oggetto json se ci sono campi con valore undefined non li invia come se non fossero inseriti quindi l'effetto netto di questo è come se noi avessimo creato un oggetto di tipo esame con solo codice, data e voto finale perché il nostro server accetta quelle tre richieste quindi noi è bene che mandiamo al server REST solo le informazioni che ci vengono richieste perché magari ha dei controlli per cui ci sono altri campi e gli altri campi possono o venire ignorati oppure possono generare un errore quindi non potendolo sapere in questo caso possiamo saperlo perché l'abbiamo creato noi ma non potendolo sapere in caso generale è bene passare alle informazioni che vengono richieste e niente di più a questo punto creiamo dal nostro form come prima il nostro oggetto esame e lo aggiungiamo lo aggiungiamo sempre con la wait perché questo metodo avrà un async e sempre con la wait prendiamo di nuovo l'elenco degli esami che abbiamo passato che questo metodo si chiama GET PASSED EXAM perché? perché così lo aggiungiamo al server e quest'altro metodo richiede alla server la lista nuova delle informazioni in modo che andiamo a recuperare dalla sorgente di informazioni dal nostro ground truth che è il server sempre il server le informazioni che ci servono e siamo sicuri di avere le informazioni più fresche possibili in questo modo a questo punto prendiamo gli esami passati con la wait come prima e svuotiamo la tabella e rimostriamo gli esami e la ricostruiamo con tutti gli esami e questo try e catch sono qui perché questi sono promise e quindi ricordate no? la wait è come scrivere punto den non esiste il punto catch ma queste potrebbero tornare errore e quindi il punto catch si può scrivere come un try catch in un linguaggio di programmazione normale quindi questo quello che succede qui quello che si scrive all'interno di questo catch è esattamente come se avessimo scritto add exam punto den e a un certo punto punto catch con gli await si scrive in modalità sincrona e quindi col try catch in ogni caso sia che la richiesta vada a buon fine quindi la richiesta d'aggiunta o la richiesta di informazioni di nuovi esami vada a buon fine o che ci sia qualche errore chiudiamo resettiamo il form e chiudiamo questa finestra in modo da poter visualizzare l'errore se ci sia un errore o visualizzare la tabella se c'è la tabella da visualizzare e tutto il resto in app rimane uguale andiamo a vedere cosa fanno i metodi add exam cosa fa il metodo add exam perché questo è lo stesso metodo che abbiamo realizzato nel laboratorio precedente il metodo add exam fa una eccolo qui fa una chiama una fetch chiama una fetch ma con qualche parametro in più rispetto a prima quali sono questi parametri in più voi ricordate che la fetch ha come secondo parametro un oggetto in cui si possono passare informazioni aggiuntive in questo caso non facciamo una get quindi dobbiamo passare delle informazioni aggiuntive il metodo che utilizziamo in questo caso utilizziamo una post l'header che utilizziamo in questo caso mandiamo una post con un json come body e quindi dobbiamo obbligatoriamente specificare che un header un header che è content type che dica che il nostro body ha come tipo che il contenuto il tipo del contenuto di questa richiesta post nel body avrà un body di tipo application json in modo che server dall'altra parte vedendo questa richiesta possa controllare se effettivamente stiamo passando un json o stiamo passando altri tipi di informazione e se stiamo passando un json ed è quello che si aspetta può continuare il suo lavoro se stiamo passando altri tipi di informazioni può ignorare la richiesta e generare un errore perché lui vuole un corpo che vuole una richiesta post che contenga su interno un json quindi di nuovo questo è un header che ci dice che il nostro il nostro corpo della post è del tipo corretto sia rispetto al corpo vero e proprio che è un json sia rispetto a quello che il server si aspetta e poi abbiamo il corpo che cos'è il corpo? il corpo è l'oggetto esame che stiamo passando l'oggetto esame come nella fetch con la get passavamo dal json dall'oggetto diciamo dall'oggetto javascript costruito su json al nostro oggetto esame c'è anche la possibilità di fare il contrario in particolare il metodo stringify prende un oggetto javascript anche personalizzato come nel nostro caso in quanto questo è la classe esame è un'istanza della classe esame e lo converte in un json in un json testuale quindi questo body è dopo questa operazione una stringa non è un oggetto javascript è una stringa vera e propria è testo e in più questo stringify rimuove i campi undefined quindi ricordate il nostro oggetto exams qui ha codice nome crediti voto data ma nome e crediti sono undefined e quindi l'invio che verrà fatto al server di questo oggetto di questo body non conterrà né il nome né i crediti perché lui si preoccupa di rimuovere i campi undefined questo è comodo se volete escludere dei campi dal json che dovete mandare ma non magari dalla vostra struttura dati perché vi serve avere anche quei campi può essere ovviamente un problema se avete dei campi undefined ma volete mantenere quelle informazioni quando le volete mandare in questo caso in realtà è stata una scelta quella di rimuovere di chi ha fatto questo metodo stringify di rimuovere gli undefined molto comoda nel nostro caso e questa fetch ha poi una den una catch la den è come prima quella che gestisce la risposta e nel caso in cui la risposta sia ok risolve non risolve con null perché è una post quindi è andata a buon fine abbiamo ricevuto un 200k e è finita così oppure nel caso in cui l'inserimento non sia andata a buon fine ritorna un errore in altri casi in altri casi la promise viene poi rifiutata questa poteva ovviamente essere scritta nuovamente con la sync con la sync e con la wait ho preferito scriverla in questo modo di nuovo classico per farvi anche avere un esempio di un altro esempio di una promise scritta con il denner catch ovviamente avremmo potuto scrivere async qui e qui avremmo potuto scrivere await e a questo punto avremmo ritornato invece di resolve direttamente il valore che ci interessava invece di reject direttamente l'errore che ci interessava avremmo solo avuto ecco questo di nuovo sarebbe stato un altro if con un altro catch quindi avremmo comunque avuto qualche if catch in più rispetto a quello che abbiamo adesso quindi da un punto di vista della complessità del codice non cambia tanto ovviamente poteva essere scritta anche con la wait e la sync quindi proviamo cosa succede facciamo un nuovo esame e inseriamo un esame che non è ancora inserito per esempio metodologie di programmazione aggiungiamo un voto 30 mettiamo una data 20 maggio 2020 e facciamo salva e vedete immediatamente riceviamo un errore allora se andiamo a vedere nella console vediamo che non ci sono errori però qui la post è andata a buon fine quindi probabilmente ho cambiato il nome di un metodo senza senza aggiornare la pagina riproviamo reti 1 voto 25 30 2018 ok si ho cambiato questo metodo get past ma ne avevo aggiornato il browser vedete che l'inserimento va a buon fine si inserisce tutto e anche il server le post le accetta tranquillamente con un 201 cosa succede se noi per esempio adesso andiamo a inserire basi dati e sistemi informativi quindi un corso che abbiamo già con per esempio un voto di 25 e una data qualunque valida ma qualunque se noi premiamo salva vedete che ci torna un errore con scritto database error during the creation cos'è questo errore questo errore è dovuto al fatto che questa post su exams ritorna 503 ed è dovuto al fatto che ovviamente base di dati e sistemi informativi esiste già da dove arriva questo errore questo errore arriva direttamente da server se noi andiamo a vedere la post su exams nel caso ci fossero problemi vedete ritornava proprio un 503 con error database error during the creation quindi questo stesso errore è lo stesso errore che vediamo propagato qui e questo stesso codice è il codice che vediamo qui ovviamente quest'errore scritto in questo modo non ci dà tante informazioni su qual è il problema non ci dice che basi di dati sistemi informativi è già inserito purtroppo SQLite se noi andiamo a prendere l'errore questo r che arriva da qui ci dice solo che c'è un problema di constraint sulla chiave perché perché non possiamo ovviamente avere due esami con lo stesso superato lo stesso esame due volte con un voto positivo ovviamente ma al di là del contenuto del messaggio d'errore che poteva essere diverso perché potevamo farlo noi diverso qui per esempio andando a prendere che esame abbiamo aggiunto e quindi fornire qualche informazione in più per rendere evidente qual era il problema e rendere più evidente qual era il problema questo è quello che essenzialmente fa questa questa nuova parte quindi il post da confetch per la creazione della nuova risorsa che se andiamo a vedere nel da nel se andiamo per esempio a prendere localhost 2.3000 slash exams vedete che noi otteniamo gli stessi risultati metodologie con la data che abbiamo inserito eccetera quindi il nostro client effettivamente manda le informazioni al server ed effettivamente se aggiorniamo la pagina le informazioni rimangono sempre persistenti e i filtri continuano a funzionare e non abbiamo nessun esame del 2019 quindi questo continua a essere vuoto ma se lo avessimo questo ovviamente avrebbe l'esame del 2019 questo chiude questo esercizio e anche le video lezioni per questa settimana questo esercizio è in un certo senso propedeutico come il solito al laboratorio che faremo venerdì in quanto nel laboratorio di venerdì utilizzeremo la fetch per far comunicare il vostro client statico sul task manager con il server rest del task manager che avete realizzato la settimana scorsa